La ballerina strepitosa è Anna Cartunem che sarà la maestra di Don Diano, l'ospite internazionale, cioè il nostro ballerino internazionale che viene da Beautiful. E poi Jessica Notaro soprattutto. Arriviamo poi a Jessica Notaro che invece è ancora una volta un pezzo della nostra vita, della nostra storia, su cui credo sia importante fare un'operazione di noi ci siamo. Noi siamo, ovviamente io sono donna, non potrei non esserci, sono le donne che subiscono violenza, ma al di là di questo, anche per dire, luce è una cosa utile in realtà, c'è una strada per riprendere a vivere e dobbiamo riprendere a vivere, dobbiamo non mollare la speranza. E questo è Jessica Notaro. E allora appuntamento? L'appuntamento è sabato 10 marzo 20.35 Rai 1. Grazie. Ciao.